E questa crisi che stiamo vivendo, anzi questa serie di crisi che si sta ripetendo, perché dal 2008 siamo in una crisi continua, penso che se non teniamo la guardia alzata creerà sempre delle sacche di fragilità per cui il lavoro potrebbe diventare anche per alcuni una scommessa nel senso deteriore del termine, garantirsi un lavoro e non tenere conto dei lavoratori, delle lavoratrici, dei lavoratori. La sicurezza non è un costo, ma è un investimento che poi fa crescere anche la stima tra i lavoratori e gli imprenditori, che possono essere pubblici o privati ovviamente, però credo che questa sia la grande sfida che se messa a posto crea quel clima differente nella nostra società.